è fatto nel mese di febbraio non meno importante tutti gli altri anche perché affronta un tema etico che ci tocca tutti ed è legato alla consulta che ha bocciato il quesito referendario sull'eutanasia questo è il dato di fatto la domanda che noi abbiamo posto è dato questo elemento fattuale secondo te cosa dovrebbero fare i politici e abbiamo dato sostanzialmente due opzioni secche devono attendere il prossimo referendum quindi attenersi esclusivamente a ciò che è stato detto dalla consulta oppure devono legiferare comunque in merito quindi assumersi la responsabilità politica di prendere delle decisioni ecco l'ottanta per cento ci dice che devono legiferare comunque in merito e quindi i politici si devono assumere la responsabilità di fare una legge che regoli un elemento così importante della vita individuale delle famiglie e sociale che quello dell'eutanasia che quello dell'eutanasia